Il nome di Sabrina Ferilli è indissolubilmente legato a Roma che in più occasioni lo ha dimostrato, come ben ricordano i tifosi di calcio che nel 2001, che in occasione dello scudetto della Roma, hanno assistito allo spogliarello dell'attrice che ha mantenuto la promessa fatta. L'attrice nata a Roma, è diventata ambasciatrice della Romanità e della Capitale, dove abita con suo marito Flavio Cattaneo in un attico da togliere il Mozzafiato, grazie alla spettacolare vista Mozzafiato, che offre su monumenti e case. È risaputo che la Ferilli abita in una delle più belle zone di Roma, la sua abitazione infatti si trova in uno dei quartieri più belli, il Prati. L'elegante abitazione dell'attrice, che ha dato il volto a Ramona, la spogliarellista amante di Jeff Gambardella nel film premio Oscar di Paolo Sorrentino, La grande bellezza, è stata svelata da alcuni scatti social condivisi dalla stessa Sabrina Ferrilli. L'attrice ha mostrato diversi scatti del suo strepitoso attico, soprattutto dell'incantevole terrazzo popolato da tante piante e sul quale si può godere una vista mozzafiato su tutta la Capitale, dalle immagini social condivise dalla padrona di casa è possibile perdere lo sguardo in direzione di San Pietro e di Castel Sant'Angelo. Oltre ad avere una grande passione per piante e fiore, come testimoniato dal suo terrazzo, l'attrice ama anche godersi la quiete dell'ambiente domestico che ha arredato con stile personale mescolando insieme stile classico e moderno. Tra gli altri ambienti di casa che sono stati svelati dall'attrice romana virtualmente, ha conquistato grande attenzione da parte degli utenti la cucina di casa Cattaneo Ferilli. Sabrina e Mara Venierda, grandi amiche e buone forchette, hanno svelato di avere una passione in comune legata alla preparazione di gustosi piatti, ed in particolare l'attrice dimostra di avere delle buone doti di cuoca. Per quanto riguarda la cucina del volto della giuria popolare di Tussi Kevales, si tratta di un ambiente all'insegna di un gusto personale dove a rubare la scena ci sono colori decisi e stile sobrio. Nella cucina della Ferilli si notano delle mattonelle con sfondo blu, su cui campeggiano motivi multicolore e disegni geometrici combinando insieme pennellate di bianco ed ocra. Per dare alla sua abitazione maggiore luminosità dominano negli ambienti principali delle grandi finestre panoramiche che rendendo l'ambiente più caldo. Il tocco personale della padrona di casa domina ovunque, tra pregiati pavimenti in parquet, quadri e scatti artistici dell'attrice. La Ferilli ha aperto anche le porte del suo salotto e del suo soggiorno sempre sui social, qui l'arredamento mixa insieme eleganza ed essenzialità, modernità e stile classico. Nel suo soggiorno trovano spazio tinte calde ma soft, sia per l'arredo che per i mobili con una predilezione per i divani spaziosi, i mobili in legno e le poltrone chiare in velluto. La personalità di Sabrina Ferilli vibra in ogni ambiente di casa, dove emerge la sua vena raffinata, la passione per le piante e per l'arte in generale in ogni sua sfaccettazione.